Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura, te lo rivelo gli occhi e le battoni della gente. Ho la curiosità di una ragazza indiverente, che li avvicina solo per un tutto pertinente, vuole scoprirse è vero quando si dice, torno ai nani, che siano i più torniti della virtù meno apparente, tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni e i mesi e se li conti che i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del cuore. Funne le notti insonni, vegliate al lupo del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore, per imboccare la strada che dalle panche cattedrale porta alla sacrestia.